Buongiorno a tutti e benvenuti a Biofilm Minutes, una serie prodotta da Alvim. In questo episodio parleremo dell'applicazione delle tecnologie per il monitoraggio di biofilm alle torri di raffreddamento industriali. Come sapete la crescita dei biofilm nelle torri di raffreddamento comporta numerosi problemi, quali la degradazione dei materiali, la proliferazione dei patogeni, ad esempio la gianella, e molti altri. Tra un minuto vi parlerò di come il segnale Alvim sia molto diverso da un segnale ORP. Ed infine vedremo un caso applicativo in una torre di raffreddamento industriale. Bene, in questo schema vedete il sensore Alvim e un sensore ORP. Il sensore Alvim monitora la crescita di biofilm nel sistema ed in particolare sulla sua superficie sensibile, grazie a un segnale elettrochimico del biofilm, che deriva dalla reale attività bioelettrochimica dei batteri. Al contrario, un sensore ORP monitora la capacità ossido-riduttiva del liquido, e quindi il potenziale redoss del liquido. Nonostante entrambi agiscano secondo principi elettrochimici, solo il sensore Alvim tra i due è in grado di rilevare la crescita del biofilm, che si vede con una crescita rapida del segnale Alvim. In presenza di biofilm il sensore ORP non fornisce alcun segnale. Entrambi i sensori, invece, rispondono al dosaggio di sostanze ossidanti, come ad esempio il dosaggio di cloro. E questo, nel caso del sensore Alvim, è molto interessante, perché consente di tenere traccia della corretta distribuzione dei sanificanti, ad esempio. Se volete leggere di più relativamente al segnale ORP, il sensore Alvim e ad esempio il cloro residuo, potete leggere il nostro interessante white paper seguendo il link in alto a destra nella slide. Siamo ora in una torre di raffreddamento, e qui vedete il segnale Alvim. Vedete che nei primi giorni il segnale era molto alto, dovuto all'intensa colorazione del sistema. Come vi ho appena mostrato, il sensore Alvim risponde al dosaggio di un biocido ossidante, come il cloro. Quando il cloro è diminuito, il biofilm è iniziato a proliferare, e il sensore Alvim ne ha rilevato la crescita, come vedete evidenziato in rosso. C'è stato un altro spike di cloro che ha rimosso temporaneamente il biofilm, ma poi, in un secondo periodo, il biofilm è nuovamente cresciuto, come indicato dalla crescita del segnale Alvim. Se facciamo un paragone con la lettura del sensore ORP, indicata sotto in verde, potete vedere che nel periodo iniziale entrambi i segnali erano elevati, dovuti alla presenza di cloro. Ma in assenza di cloro, il sensore ORP ha fornito un segnale piatto, mentre il segnale Alvim è cresciuto, indicando la crescita di biofilm, cosa che, in modo analogo, è possibile vedere anche nel secondo periodo temporale. Se volete leggere di più relativamente a questo caso applicativo, potete seguire il link indicato in alto a destra in questa slide. Inoltre, non dimenticate che se avete perso i precedenti episodi di Biofilm Alvim, potete sempre trovarli sulla nostra pagina LinkedIn, sul nostro canale YouTube, oppure al link qui sotto riportato. Se avete ulteriore interesse, domande o curiosità relative alla tecnologia di monitoraggio di biofilm Alvim, potete visitare il nostro sito oppure contattarci tramite email. Grazie per la vostra attenzione, alla prossima occasione. Arrivederci.